Sono Paolo Confortini, io mi occupo di Marketing Automation e nel 2015 ho fondato un'azienda che è Seven Hype che si occupa in modo esclusivo e focalizzato di Marketing Automation. Lo facciamo in diversi modi, in tre modi, lo facciamo tramite la formazione, quindi abbiamo costituito la nostra Marketing Automation Academy, dove anche tu Raffaele hai fatto uno speech nell'ultimo evento, che è stato molto carino, lo facciamo tramite l'erogazione di servizi, tramite la nostra Marketing Automation Factory, quindi sostanzialmente andiamo a aiutare le aziende a sviluppare progetti di Marketing Automation e poi siamo Sismenago Italia, che è un software di Marketing Automation di cui abbiamo iniziato a venderlo cinque anni fa e piano piano abbiamo acquisito sempre più importanza per diventare il secondo partner che loro hanno al mondo e quindi ci hanno dato tutta la gestione dell'Italia. E quindi lo facciamo in questo modo, di Paolo Confortini, Marketing Automation. Come modello di lavoro in azienda, come metodologie, eccetera, eccetera, sfruttate qualcosa o avete qualche legame con il mondo Lean, il mondo Agile, il mondo Growth e così via? Allora, assolutamente sì. Da subito mi occupo di web, chiamiamolo così, di internet dal 97, e quindi ho aperto la mia prima web agency nel 97, da lì poi è stato tutto un percorso, diciamo, di crescita e di sviluppo in merito a attività sempre legate al mondo internet. Ed ad un certo punto che cosa è accaduto? Che quando ho fondato Seven Hype, mi ero un po' stufato di non essere capace a fare delle delivery fatte bene. Ok? Quindi mi sono imposto di studiare, ho studiato ovviamente la matidologia Agile, ho studiato l'approccio Lean, ho studiato tutte quelle tematiche che sono ovviamente oggi molto diffuse, soprattutto in ambito startup. E che cosa ho fatto? Ho costruito un nostro modello operativo. Mi sono appoggiato sull'approccio Lean, soprattutto, e dove me lo sono un po' reinterpretato, perché ad esempio una delle tematiche è ridurre il movimento, e io ho sviluppato questo approccio volendo in modo molto forte che cosa? Che le mie persone potessero lavorare in qualsiasi posto del mondo senza dover raggiungere un luogo fisico, ad esempio. E quindi l'ho interpretato in questo modo, piuttosto che ridurre gli sprechi, e io l'ho fatto sulla riduzione degli sprechi di tempo nostri, ma soprattutto dei clienti, riducendo le interazioni e facendo diventare molto più proficque, quindi preparando ad esempio quelli che sono i nostri incontri, molto prima di arrivare all'incontro fisico o virtuale che sia, in modo che le aziende sanno esattamente cosa devono preparare, cosa devono aspettarsi, chi deve partecipare, eccetera, eccetera, eccetera. Sembra banale, ma non lo è, perché nessuno o pochissimi lo fanno, e questo permette di fare un'ora o due ore molto efficienti e molto efficaci. Quindi ho preso tutti l'elenco puntato dell'approccio Lean e l'ho reinterpretato per il nostro modello operativo. E un'altra cosa molto importante a cui mi sono ovviamente in tempi più recenti avvicinato, soprattutto grazie a te, alla parte del grow hacking. Quindi anche nel nostro metodo, quando noi ci avviciniamo alle aziende, iniziamo a sviluppare i progetti, per noi è fondamentale individuare nella fase iniziale un MVP, un Minimal Viable Product, che ci consenta di far che cosa? Di poter sviluppare qualcosa in tempi relativamente brevi e che dia subito dei risultati misurabili da testare, ok? Per poi da lì andare a costruire tutti i pezzi successivi per arrivare poi a una strategia, ma fatta da componenti. Questo è molto importante perché le aziende vedono e toccano subito con mano i risultati. Hai fatto una bellissima riflessione e ti voglio chiedere un piccolo approfondimento, perché tu hai detto all'inizio, abbiamo preso quelle che sono le cose tipiche di queste metodologie, però poi le abbiamo un pelino personalizzate. E io credo che sia una cosa sacrosanta, perché molto spesso rispetto a queste metodologie, invece c'è una visione molto estremista, osate dire, quasi con i paraocchi. Se vuoi fare agile devi farlo per forza così, se vuoi fare lì devi farlo per forza così, quasi come se fosse la ricetta con i passi da seguire. E invece secondo me la potenza di queste metodologie è quando poi sei bravo a cucirle, no? Su misura per le tue esigenze. Che mi sembra di capire che è quello che avete fatto esattamente voi. Quindi non avete seguito una ricetta preimpostata, ma avete preso degli spunti di cose utili e quelle che vi servivano ve le siete prese, quello che non vi serviva l'avete lasciato fuori, se ho capito bene, giusto? Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo fatto così. Tieni in considerazione che questo step, questo processo non è mai immediato. Perché non è immediato? Perché se non conosci a fondo un, ad esempio, un approccio, una metodologia, che cosa succede? Che reinterpretarla senza avere una base solida corre il rischio di uscire molto dal binario e di creare qualcosa che poi non funziona. Quindi devi proprio farla tua, devi diventare molto bravo, devi internare, internare, portartela all'interno, e una volta che hai sviluppato bene le competenze, poi riesci a reinterpretarla per il tuo modello, per il tuo approccio e per la tua azienda. Questo per me è molto importante. Perché lo dico? Perché vedo molta gente che in senso lato studia, ok, ma poi da subito, ancora prima di aver capito quello che sta studiando, tenta di dire, ah ma secondo me lo farai in questo modo e lo fa in un modo che è suo, ok? Però fatto in un modo troppo, diciamo troppo acerbo, in un modo così poco accurato, succede che molto spesso quello che fanno non è corretto, ok? Non è corretto, non porta poi risultati. Quindi sì, è bellissimo reinterpretarlo, ma per poterlo reinterpretarlo, purtroppo, per fortuna, bisogna conoscerlo molto bene. Devi padroneggiarlo. Esatto. Parlando di sperimentazione, di testare, di sperimentare, che è un po' poi uno dei temi principali, degli argomenti, diciamo, del mio libro e di queste interviste che sto facendo, per voi come Seven Hype e anche per te come Paolo, che cosa significa sperimentare, quanto è importante proprio utilizzare un approccio votato alla sperimentazione? È fondamentale. Perché è fondamentale? Calcola che noi abbiamo quattro aree operative, una di queste è dedicata al KPI e alla misurazione, ok? Quindi non abbiamo cinquanta, dove una è dedicata a KPI e alla misurazione, ma ne abbiamo quattro. Perché è così importante? Perché soprattutto nell'attività che noi facciamo, ma credo in senso lato, a tutte le attività che vengono svolte, noi facciamo marketing automation, e molto spesso significa andare a lavorare su processi esistenti o nuovi, e cercare di automatizzare determinati processi. Cosa vuol dire questo? Che è un'attività complessa, ok? Che si lega anche a una complessità dell'azienda con cui lavoriamo. Cosa significa? Quindi il risultato finale è che è molto difficile da fare, però se noi lo facciamo a step, in piccoli step, e per ogni singolo step definiamo molto bene che cosa misurare, e lo misuriamo con una frequenza corretta, questo ci dà subito l'evidenza se siamo sulla strada giusta, se siamo sulla strada sbagliata. Una delle, grazie anche a te, ma una delle prime cose che noi diciamo ai clienti quando siamo davanti a loro è noi non faremo la cosa perfetta, noi faremo tante cose e raggiungeremo la perfezione in un arco temporale stabilito. E' molto importante questo. Quindi siamo molto più, diciamo, vogliamo molto più sviluppare qualcosa da mettere in pratica, da testare, e per testarlo bisogna davvero applicarsi in un modo corretto per misurarlo e testarlo, piuttosto che costruire dei grandissimi castelli complessi che poi non vedono mai una fine. Molte aziende, anche grandi, anzi, grandi che noi incontriamo sulla nostra strada e che diventano nostri clienti, le troviamo sempre in processi sviluppati e partiti due o tre anni prima di marketing automation, inbound marketing, e che ancora non sono accesi, cioè non sono riusciti a fare la delivery dopo due o tre anni di progetto. Questo per noi è impensabile. Noi dopo quattro mesi già abbiamo un MVP attivo, ok, che cominciamo a testare. Capisci quanto è differente? Sì. A volte è colpa delle agenzie che li seguono, a volte è colpa del cliente stesso, a volte è colpa di questo approccio che entrambi hanno di voler pensare ai prossimi tre anni e poi non riuscire mai a partire sostanzialmente. In ottica di, proprio rispetto a questo che mi dicevi, mi fai un esempio, raccontami un caso, che ne so, di un esperimento che è andato bene, è quello che avete imparato, ma anche di un esperimento che è andato male, e di quello che avete imparato. Cioè, mi interessa il focus sulle lezioni portate a casa. Non tanto siamo stati fighi, ma cosa avete imparato in un caso, cosa avete imparato nell'altro. Ok. Guarda, noi lavoriamo sui, ovviamente sui diversi stage di un processo di marketing automation, quindi dalla classica, più famosa e più sentita, lead generation, ok, ad altre attività, invece molto più legate alle imprese che sono ad esempio aiutare la forza vendita. Ok. Cosa vuol dire aiutare la forza vendita? Uno dei casi dove abbiamo imparato, dei casi, non solo uno, ma l'esempio di caso dove impariamo tanto, e che a me personalmente mi piace tantissimo, è proprio quando noi lavoriamo con le forze, le reti vendita già attive. Ok. Perché cosa succede? che come base della marketing automation c'è il CRM, ok? Perché è un elemento fondamentale, che più che customer relationship management, io lo definirai contact relationship management, nel nostro caso. E sempre il CRM è stato, è presente all'interno delle aziende, perché lavoriamo con aziende strutturate, quindi è impossibile oggi che non ce l'abbiano, è molto invece più probabile che non funzioni, anzi che non lo stiano utilizzando, ce l'abbiano ma non lo utilizzino. A prescindere da questo, il CRM è sempre stato inserito in azienda, in un modo scorretto, e quindi tutte le reti vendita che noi troviamo, percepiscono il CRM come qualcosa di negativo. Ok? Devo imputare i dati, devo inserire i dati, ok? Non è mai stato fatto una formazione, un percorso, dove è stato insegnato loro che, è uno strumento che va a supporto, della loro vendita. Noi qua impattiamo sempre tantissimo, perché facendo che cosa? Andando a generare, ad educare, a sviluppare noi dei processi sui lead, o sui clienti già acquisiti, e passarli loro già in una fase più matura, gli consente di migliorare tantissimo le loro performance, cioè ridurre gli appuntamenti, ridurre la visita, aumentare i fatturati. Ok? Questo è un elemento distintivo, e di fronte a questo, si illuminano questi occhi, e ti dicono, ora ho capito il CRM, ma cosa serve? Chiaro il concetto. Quindi, quando lavoriamo lì, noi siamo felicissimi, ma felicissimi. Un'altra cosa che abbiamo capito, e quindi, diciamo, abbiamo capito che affrontare la parte di CRM e di automation sulle reti vendita già attive, può dare con degli sforzi piccoli, dei risultati enormi. Ok? Questo è un elemento determinante. Non solo di fatturato, ma proprio di, di, sulle persone, e sulla loro vita, e su, sembro troppo filosofico, però davvero sul loro quotidiano. Ok? Si semplifica tanto la vita, e aumenta tanto la felicità proprio in ambiente lavorativo. Un altro aspetto che abbiamo imparato invece, che è un po' più negativo, un po' più, più brutto, ok? È questo. Abbiamo imparato che quando parliamo di lead generation, che sembra più facile, varia moltissimo, e dipende moltissimo, da azienda a azienda, come è il risultato poi finale. Ma perché dipende? Non tanto dalle attività che noi sviluppiamo, ma soprattutto da che cosa? Da il posizionamento strategico, che l'azienda ha in quel momento. Ci sono aziende più focalizzate, e aziende completamente defocalizzate. Ci sono aziende, già presenti con un brand sul mercato, abbastanza forte, e aziende invece, non presenti sul mercato, ok? Le aspettative sono sempre simili, ma i risultati che riusciamo a ottenere, sono ovviamente, hanno diciamo, una velocità completamente diversa, uno rispetto all'altro, ok? E la focalizzazione, anche se sembra manale, ancora oggi, è un elemento che è difficile, che l'azienda capisca, ok? Hanno ancora questa visione di, no, ma se offro più cose, posso avere più clienti, e non percepiscono, che è esattamente il contrario, cioè più ti allarghi, e meno sei, accuminato, per poter inserirti in un mercato, ok? Chiaro. Chiaro il concetto? Sì, sì, sì. Quindi questo, noi diciamo, lo sapevamo, ma ne abbiamo avuto, proprio un'evidenza, molto importante, tant'è vero che oggi, che ce lo possiamo, un po' più permettere, molte volte, non accettiamo, di lavorare con aziende, che non siano focalizzate, che non siano strutturate, dal punto di vista di, offerta, in un certo modo. No, dicevo, quindi la lezione imparata, è che quindi, ora certi tipi di aziende, non ve le prendete, preferite dirgli di no, e non prenderle, poi non dare dei risultati, esatto, assolutamente sì. Noi ci teniamo, di una cosa, a quello che, diciamo, facciamo i risultati, ma anche perché, è intrinseco nell'attività, che svolgiamo, e quindi, se sappiamo già dall'inizio, che ci potrebbero essere, vi diamo dei suggerimenti, diamo delle indicazioni, sul percorso, che dovrebbero fare, secondo noi, per migliorare, quel deficit che hanno, e però non le seguiamo, e chiediamo magari, di ripassare dopo un anno, quando ho fatto, determinate tappe, determinate steppe, e sono più pronte, a un progetto, di marketing automation. Prima, fin dall'inizio, hai parlato di KPI, nelle tue risposte, se ti chiedessi, quali sono le, top metriche, che tenete sotto controllo, quale, quale mi indicheresti? Cioè, voi quali numeri, guardate, per capire se le cose, stanno andando bene o meno. Ah, complicato. Allora, ovviamente, ci sono, diciamo, noi abbiamo delle metriche, che variano, in base a, due parametri diversi. Un parametro, ovviamente, è lo stage, su cui andiamo a lavorare. Come dicevo prima, quando noi approntiamo un'azienda, non partiamo a 360 gradi, su tutto il funnel, per il funnel, intendo, di generation, trasformazione di link client, eccetera, eccetera, post vendita, fidelizzazione di cliente, ma, andiamo a mappare, il processo di vendita, quindi il sales funnel, una volta che abbiamo mappato, il sales funnel, andiamo a identificare, dove l'azienda ha più problematiche, una volta che abbiamo identificato, dove, secondo noi, siamo più, dove possiamo avere più impatto, nel tempo più breve, andiamo a lavorare. Quindi, le nostre metriche, variano, in base a, lo stage, dove andiamo a lavorare, numero uno. numero due, impattano anche, in base alla tipologia di azienda, ok? E, su queste due, su queste due caratteristiche, andiamo a costruire, ovviamente, di volta in volta, che cosa? Quei KPI, che ci interessano di più, che sono più significativi, e li andiamo a misurare, ok? E' logico che, all'interno di questi KPI, in base al, al momento in cui, si, si trova, diciamo, il processo del cliente, alcuni sono, sono sempre, quasi sempre, presenti, ok? Cosa vuol dire? Se siamo sul, bottom of the funnel, quindi sulla parte finale, ovviamente, le metriche legate, al fatturato, al numero di clienti acquisiti, quelli sono, praticamente standard, ok? Però, in determinati casi, ti dico, una metrica, che è molto difficile, da calcolare, ma a cui, che a noi sta sempre a cuore, ok? Su cui lavoriamo sempre molto, è il tempo di maturazione del lead, che viene, viene preso in modo, molto scontato, molte volte, e invece, è un parametro, importantissimo, A, perché mi permette, e ci permette, lavorando col cliente, di dargli la visibilità temporale, ok? Di quando avverranno le cose, ok? E' logico che, se io vado a lavorare, con un'azienda, che vende un qualcosa, un macchinario, che si inserisce, in un processo produttivo, quindi, che ha delle complessità, oltre a un costo elevato, che cosa succede? Che, prima di scegliere, di acquistare, quel, quel, quel macchinario, un'azienda dovrà fare, tutta una serie di valutazioni, che la porterà, a percorrere, un arco temporale, molto lungo. Se invece io, devo vendere, una tazzina, della Nespresso, ok? Che cosa succede? un po' il pricing, un po' la necessità, un po' queste cose, ed è classificabile, come assolutamente, un acquisto di impulso, o la compro, o non la compro, ok? Noi stiamo cercando, di identificare, di costruire, il nostro indice, di acquisto di impulso, proprio lo stiamo chiamando così, per andare, a monitorare, una serie di parametri, estrarre un valore, che ci dà, indicativamente, il tempo necessario, ad un lead, dal momento in cui, entra in contatto, con, il primo momento, il primo touch point, con l'azienda, quando comprerà, quanto sarà, quel tempo media, ok? Noi oggi, consideriamo, che sia, per le aziende, diciamo, con cui lavoriamo, il parametro base, con cui parliamo, è 3-4 mesi, ok? Però, in realtà, ne abbiamo alcune, dove è 2 anni, e ne abbiamo alcune, dove è 2 mesi, ok? Quindi, è molto lato. Perché è così importante? Perché, capisci che, se noi partiamo, a fare, lead generation oggi, su un, dove c'è, il tempo di maturazione, di 8 mesi, l'azienda, non può aspettarsi, che domani, cominciano ad arrivare, degli ordini, ok? E, dagli evidenza, di questa cosa, permetta a tutti, di lavorare, in un modo, molto più intelligente, e molto più strutturato, ok? Questo è un parametro, un po' standard, diverso, da numero di pagine, visualizzate, tempo di lettura, di blog, eccetera, ma su cui, noi, lavoriamo moltissimo. Sì, sì, sì. Visto che hai fatto, molto spesso, riferimento, a questo dialogo, costante, che dovete fare, con i clienti, se ci spostiamo, un po' più, sul qualitativo, quanto spesso, quindi, parlate con i vostri clienti, e soprattutto, come la impostate, questo tipo di, di dialogo, cioè, che strumenti utilizzate, sono cose che fate con, Skype call, one to one di persona, inviate delle survey, cioè, come gestite questa comunicazione, questo rapporto, dialogo con i clienti? tieni in considerazione, che noi abbiamo un processo, io, diciamo, seguo, studio, eccetera, ad esempio, Pier Nicola De Maria, che, 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 diciamo, fa formazione, su come sviluppare processi, e soprattutto delega, all'interno dell'azienda, e abbiamo costruito, questo nome lo prendo, quindi, da lui, abbiamo costruito, all'interno dell'azienda, un processo, che si chiama, cliente fanatico, ok? È proprio un processo, il nostro metodo operativo, il primo layer, il primo strato, è l'interazione tra noi e il cliente, ok? Prima ancora, della parte, di che cosa faremo. Come è costituito? È costituito da un processo, da un processo, che segue, il nostro arco temporale, di come si sviluppano gli eventi, ok? Ed è, ed ha una serie di strumenti, gli strumenti sono, video, noi abbiamo delle quattro macrofasi, all'inizio della macrofase, viene proposto un video, proprio quasi one to one, dove spieghiamo, che cosa faremo, in quella fase. Quindi, è una macro presentazione, di cosa aspettano i prossimi due mesi. È un video registrato, o viene fatto volta per volta? Registrato, un video registrato, che viene sottoposto, ok? Poi, nella fase, diciamo, di acquisizione del cliente, un'altra, la prima cosa che facciamo è, sottoporre dei questionari, ok? Un questionario abbastanza completo, su tutte le attività, che l'azienda ha svolto, prima di iniziare il lavoro con noi, in ambito marketing, cosa ha funzionato, non ha funzionato, il posizionamento, le liste, ha comprato liste, ha usato liste, usa mail, quindi tutta una serie di informazioni. Un'altra cosa molto importante, che, diciamo, compone, il nostro cliente fanatico, è la parte di formazione. Quindi, la prima cosa che noi facciamo, questi eventi, di tre giorni, formativi, eccetera, li registriamo, spegniamo, le cifre astronomiche, per registrarle, in modo professionale, perché questi diventano, gli infoprodotti, che noi diamo, nel momento in cui, il cliente, sottoscrive un contratto, in modo da cominciare, a formare, il team, del cliente, che di solito, è composto da tre o quattro persone, già sulle tematiche, che andremo a approfondire, ok? Poi da lì, questi glieli regalate, giusto? Glieli regalate, gli regaliamo, certo, assolutamente, diciamo, ce li pagano in altro modo, glieli regaliamo, ok? Quindi, li regaliamo, li prendiamo per mano, e li inseriamo. Un'altra, un'altra, diciamo, un'altra attività, anzi, un altro strumento, è brutto, un altro elemento determinante, del nostro processo, cliente fanatico, è il nostro coach. Noi abbiamo, abbiamo sviluppato, un modello operativo, così dettagliato, che ci permette, nel momento in cui partiamo, con un cliente, di pianificare, all'interno di teamwork, tutto un anno di lavoro, di ogni singolo task, di ogni singola attività, di ogni singola persona. Quindi, non ci serve tanto la figura, del project manager, perché, tutte le persone che lavorano, sanno già, cosa dobbiamo fare, in modo dettagliato, eccetera, siamo molto bene organizzati. Dall'altro lato, abbiamo bisogno, di una persona, che sia vicina al cliente, che lo guidi, nel processo di sviluppo, del progetto, insieme a noi. E quindi, l'abbiamo chiamato, anche se un po' inflazionato, coach. Quindi, noi abbiamo, il marketing automation coach, che è la persona, vicina al cliente, che lo prende, lo guida, lo aiuta a formarsi, lo aiuta a capire, quello che stiamo facendo, eccetera, eccetera, durante il processo, di sviluppo, del progetto, di marketing automation, insieme a noi. Ok? Quindi, video introduttivi, le interazioni, sono fatte, poche fisicamente, ok? Ne facciamo una all'inizio, nella parte di onboarding, e ne facciamo una, nella parte di rilascio, dell'MVP, e una, a cadenza di 5 mesi, in 5 mesi, che è il nostro ciclo di, che ripercorriamo, lo sviluppo della strategia, di un altro pezzettino, lo sviluppo tecnico, il test, e la fine della parte di test, e rilascio, ufficiale, di quello che abbiamo fatto. Fammi un esempio, ah, scusami, tu interrotto, non so se stai finendo, piccolino, il resto, il resto, delle interazioni normali, quindi presentazione, strategie, eccetera, eccetera, sono fatte tutte, tramite, conference call, usiamo, in questo caso, zoom, registriamo tutto, il cliente, la sua area, con tutte le registrazioni, in modo che può, riaccedere, e ripercorrere, se arrivano delle persone, nuove, eccetera, quindi gli creiamo un ambiente, dove è in grado, poi, anche di formare, o di ricostruire, tutto quello che è stato fatto, in modo abbastanza veloce. Mi fai un esempio, di una cosa, che avete imparato, che non conoscevate, avete imparato, grazie al dialogo, con i clienti, tipo dici, un giorno, in una survey, uno ci ha detto una cosa, e ci ha aperto la mente, oppure durante una call, ci ha fatto notare una cosa, e nessuno se ne era mai accorto, una cosa che avete imparato, grazie a una chiacchierata, con un cliente. Due cose, però, non so se hanno una connotazione positiva, o negativa, che abbiamo capito, abbiamo imparato, sono queste. Una è che, molte volte, il team con cui lavoriamo, che è il team di marketing, è scollato, dal management, e dal commerciale, ok? Tanto è vero, che per voler, mantenere questo legame, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo istituito, e costituito, all'interno del nostro processo, un report mensile, che deve essere firmato, non dal responsabile del team di marketing, ma dai suoi superiori, a volte il management a volte, ok? Perché noi abbiamo la volontà, di riportare, quello che abbiamo fatto in quel mese, gli step che abbiamo raggiunto, in totale trasparenza, perché noi diciamo, questo mese faremo, e diamo la checklist, e alla fine del mese, diciamo, abbiamo fatto questo. Quindi se non facciamo delle cose, noi ce ne assumiamo completamente, la nostra responsabilità, e lo portiamo in evidenza, ok? Ma non al team con cui lavoriamo tutti i giorni, ma sopra di loro, sempre, ok? L'ho voluto con forza, anche se ovviamente, da un lato, ci costringe ad essere più performanti, ed è bellissimo, e l'ho voluto con forza, perché non voglio che ci sia questo disallineamento, perché erano troppe le volte, che arrivava qualcuno da sopra, a dire, ma a che punto siamo? Ok? Dopo sei mesi che stavamo lavorando, ma se non te lo dicono i tuoi, va bene, te lo diciamo noi, però mi sembra una cosa un po' particolare, un po' strana, però succedeva molto spesso, quindi questa è una cosa che abbiamo imparato, un'altra cosa che abbiamo imparato, è che dobbiamo, ce lo diciamo tutte le volte, ma è difficile, dobbiamo semplificare la nostra comunicazione, in generale, ma anche verso i nostri clienti, noi diamo, i miei ragazzi, io, ma tutti noi, diamo molto spesso, per scontato, tanti argomenti, tanti concetti, perché lo facciamo tutti i giorni, ma dall'altra parte abbiamo delle aziende, anche se hanno delle persone di marketing, che non hanno delle competenze, così sviluppate come noi, su quello che facciamo, e quindi dobbiamo, semplificare, e riportare con esempi, più semplici possibili, le cose che tutti i giorni facciamo, in modo che ci sia una comprensione totale, in modo che tutti lavoriamo bene, su un obiettivo comune, altrimenti rischia, da una parte, noi di essere un po' incomprensibili, dall'altra, per una serie di ragioni, non porre in evidenza, non porre in evidenza, non ho capito questa cosa, non ho capito quell'altra cosa, essere disallineati, e rallentare poi il ritmo di sviluppo. Ti volevo fare un'altra domanda, invece, sulla parte un po' più, come dire, di, se vogliamo, pensiero laterale, creatività, e così via, considerando anche il modello che avete fatto, molto particolare, full remote, eccetera, eccetera, ero curioso di sapere, se ce l'hai, un esempio, un racconto, di una volta che avete, non so, sfidato le assunzioni, che quindi avete fatto una cosa, controintuitiva, avete detto, perché no, e poi ha funzionato, diciamo, cavolo, questa cosa non ci avrebbe mai scommesso, a due lire nessuno, però poi ha funzionato, quindi potrebbe essere un modello, un processo, una campagna, che ne so, qualsiasi cosa ti venga in mente. Allora, ma dici, diciamo Dio, progetti realizzati per i nostri clienti, o internamente verso, o l'uno o l'altro, quello che preferisci, però una cosa che sia particolarmente, come dire, fuori dagli schemi, out of the box, come direbbero gli americani, che quindi non sarebbe, non è una best practice, non è un'idea intuitiva. Allora, ci sono due cose che io sto facendo, anche qua con forza, perché sono convinto, che aiutino a migliorare le mie persone, le persone che lavorano con me, ok? Due o tre cose anzi, e che sono controintuitive, nel senso che quando ne parlo con i miei amici imprenditori, mi dicono che sono tutto matto, quindi dovrebbe essere controintuitiva, ok? Uno, ovviamente, questo percorso al full remote, è stato un percorso abbastanza complesso, perché comunque ho delle persone, ho avuto le persone, ancora tutte le persone, che fanno resistenza a questo, anche se hanno 22 anni, ok? Perché hanno la maniera del controllo, vogliono vedere le loro persone con cui lavorano, eccetera. Io invece non sono così, e cosa ho fatto? Ho fatto due cose, uno, sto spingendo le persone, partecipando anche dal punto di vista economico, a far cosa? A fare in modo che vadano a lavorare, e a fare degli esperimenti di lavoro all'estero, quindi che si spostino, escano dall'Italia, c'è chi sta andando a Siviglia, chi è andato in Repubblica cieca, qualcuno verrà a Varsavia, ok? Per un periodo di qualche mese, ok? In modo che abbiano una visione diversa, rispetto a quella italiana, ok? Sto sviluppando un percorso, per permettergli di andare a lavorare, in posti, ad esempio, come i spazi di co-working, che pagheremo noi, eccetera, però strutturati bene, dove possono fare contaminazione, e lavorare a stretto contatto, con aziende diverse, ok? E la prima obiezione dei miei amici, imprenditori, eh vabbè, ma se fai tutto questo, li paghi anche tu, e poi si trovano un'altra, se si trovano un'altra azienda, troveranno un'altra azienda, non è? Capito? Però intanto che rimangono da me, sono il top dei top. Sì, l'esempio è bellissimo, mi piace, ci stanno. Hai capito? Intanto, intanto, quello che danno a me, anziché scaldare una seggiola, è un qualcosa di esplosivo, ok? Poi dopo, sta a me, lottare, ma lottare vuol dire, essere così bravo, da sviluppare un'azienda, sempre così, eh, bella, uso questo termine semplice, per fare in modo, che rimanga da me, anziché andare da qualche altra parte, ok? legato a questo, sto cercando di creare un'accoglienza, chiamiamola così, a Varsavia, dove io abito, in modo che, se vengono qua a lavorare per un arco temporale minimo, 3-4 mesi, adesso vediamo, addirittura gli darò il 50% dello stipendio in più, ok? In modo che li forzo, in un modo carino, a lavorare fuori dall'Italia, ok? Queste sono due cose, due cose che sto facendo, un'altra cosa che sto facendo è, purtroppo non esiste su Brescia, è trovare un ambiente, cioè spostare la mia sede, che era un ufficio grande, che dovevo ingrandire ancora, perché non ci stavamo più, un anno e mezzo fa adesso, non ci va più nessuno, sostanzialmente, voglio spostarlo in un posto, dove le persone quando vanno, hanno a disposizione, appunto una contaminazione, ok? Mi piace tale garden su Milano, perché è strutturato bene, è fatto bene, però su Brescia non c'è nulla, dove abbiamo la sede, molti sono residenti lì, adesso troverò una soluzione anche per questo. Certo. L'ultimo punto invece che volevo toccare con te, era relativo alle domande. Cosa intendo dire? Prima ti ho chiesto quali sono le metriche che guardi, per capire se le cose stanno andando bene o meno. Ti faccio una domanda simile, quali sono le domande che ti poni periodicamente, per capire se le cose stanno andando bene o meno? Quali sono quelle domande a cui torni ogni tot, E ti fai delle domande per dire, ok, dobbiamo correggere la rotta, stiamo andando bene o meno. Hai delle domande guida? Ok, per quanto riguarda ovviamente la mia azienda, Seven Hype, sì, mi faccio spesso delle domande. Le domande sono legate a diverse tipologie, a diversi fattori dell'azienda, ok? Diciamo che i quattro fattori principali su cui mi pongo domande sono le persone, ok? Sono la parte di strategia che sto seguendo per lo sviluppo della mia azienda, per la parte di scaling up, sono la parte di esecuzione, se l'esecuzione che facciamo per i nostri clienti funziona, ma funziona non solo se la facciamo, ma se porta risultati ai nostri clienti, e poi una parte relativamente al cash flow, quindi la parte economica, ok? Sulla parte delle persone, un aspetto, la domanda che mi faccio è, spesso è, sto riuscendo a fare in modo che non solo lavorino, ma crescano anche a livello personale sul lavoro, ok? Questa è importante. E questa me la faccio tutti i giorni. Per oggi la risposta è sì, e la mia maggiore gratificazione è quando, ad esempio, le mie persone cominciano a scrivere libri, ok? Giulia Verzeletti, la responsabile dei coach, ha scritto, abbiamo appena pubblicato, siamo anche editori, ok? Sempre solo di libri di marketing automation, con l'Academy, ha appena pubblicato un libro, che è Inbound Marketing Automation, che è come la marketing automation, si innesta all'interno di un processo di inbound marketing. E l'ha scritto lei, ok? Giulia Bosi sta scrivendo, responsabile di tutta la parte content, sta scrivendo un libro bellissimo, strutturato in un modo particolare, che permetterà a chi vuole scrivere contenuti per la marketing automation, di poter capire come farlo, di imparare a farlo, e poi farlo in modo abbastanza semplice. Quindi queste cose sono quelle che determinano una risposta positiva in questo momento alle mie persone. L'altra risposta a questa domanda è il fatto che tutti rimangono, quindi nessuno va via, e quindi questo è già un fattore determinante probabilmente che si sentono, anche se li con forza, li spingo fuori dalla zona di comfort tutti i giorni, e lo faccio per loro, ma lo faccio in modo anche, diciamo, simpatico, da parte a parte, però per loro è una sfida, ad esempio andare su un palco, parlare davanti a 200 persone. Vi assicuro che non era facile per delle persone che erano abituate a scrivere codice o a fare implementazioni tecniche, però l'hanno accettato come sfida in modo progressivo, in modo sempre più, ed oggi la soddisfazione più grande è quando scendo da quel palco e ti ringraziano, perché hanno superato quell'Everest e si sentono in cima al mondo. Quindi questo sulle persone. Sulla strategia, importantissimo, io voglio mantenere la mia focalizzazione sulla marketing automation, ma devo allo stesso tempo cominciare, e anzi continuare a pensare a come poter crescere e scalare legandomi sempre alla marketing automation, che non vuol dire estendere i servizi che genero, ma vuol dire farli in modo più intelligente. Ad esempio stiamo facendo un percorso con un'azienda molto grande a livello mondiale, dove svilupperemo una verticalizzazione del nostro modello di marketing automation per la tipologia di clienti che loro hanno e in modo che siano loro il driver su questi clienti. Faremo una fase sperimentale, se tutto va bene, poi significherà vendere 100, 200, 1000 progetti in un arco di qualche anno, però tutti molto simili uno all'altro. Quindi mi permetterà di scalare riducendo l'impatto sulle risorse umane. Quindi dove sto andando? Io lo guardo e lo controllo tutti i giorni e la domanda che mi pongo è se stiamo andando nella direzione giusta, inteso manteniamo la nostra focalizzazione, stiamo sviluppando i progetti che ci daranno scalabilità senza uscire al nostro focus, e questo me lo chiedo tutti i giorni. Un'altra parte importante è l'esecuzione dei progetti, questo è quasi scontato, però davvero per noi l'esecuzione del progetto vuol dire riuscire a comprimere sempre di più i tempi di esecuzione, non tanto per ridurre le ore di lavoro, ma per essere più efficienti e veloci sul cliente, ma allo stesso tempo riuscire a dare dei risultati misurabili. Misurabile vuol dire abbiamo fatto questo, non dico fatturato, perché gli obiettivi che ci poniamo sono sempre alla fine del funnel riconducibili dal fatturato, ma quando decidiamo sul processo di vendita di andare a focalizzarci su un pezzettino, lì gli obiettivi che ci poniamo e ci prendiamo per iscritto possono essere diversi dal fatturato, quindi quegli obiettivi però ce li identifichiamo e sulla parte di esecuzione dobbiamo raggiungerli più brevemente possibile, perché più riusciamo a raggiungerli in modo breve, più tutti gli attori in gioco sono contenti, chi paga le fatture, il team interno all'azienda che può andare con i risultati in mano, noi, il mio team che è felice e noi che possiamo mantenere il cliente per un arco temporale più lungo e aumentare il nostro lifetime value. L'ultimo è ovviamente la liquidità e la parte diciamo finanziaria, anche qua è molto importante perché non possiamo fare quello che facciamo, non possiamo sperimentare, non possiamo far crescere persone se non abbiamo alla base il denaro per farlo, ok? È molto difficile, è molto complesso, noi oggi tra abbiamo 20 dipendenti, abbiamo 17 collaboratori esterni, quindi continuiamo a crescere in tal senso e ovviamente la richiesta di denaro di una macchina così complessa che cresce è sempre di più, ok? Devo quindi mantenere, noi abbiamo un modello di business che ce lo consente, dobbiamo mantenere un processo di legato alla liquidità e alla crescita finanziaria che sia corretto per poter permettere allo sviluppo dell'azienda stessa, quindi anche qua proprio qua è più semplice, più intuitivo, ovviamente abbiamo un nostro un nostro un nostro un nostro pianificazione anche del nostro budget eccetera quindi il controllo che faccio sono numeri semplici, stiamo rispettando il budget stiamo rispettando le spese quindi più intuitivi però è molto importante anche questo aspetto quindi queste sono le 4 aree dove assolutamente mi pongo ogni giorno delle domande e che tengo costantemente monitorate. Ti faccio due domande di chiusura che sono facili sono due cose che mi appassionano tantissimo consiglia un libro che è particolarmente piaciuto non deve essere per forza di marketing o di business o qualsiasi cosa è un tool che è necessario per te avere nella propria cassetta degli attrezzi quindi uno strumento che ritiene fondamentale per chi fa questo lavoro. Uno a uno o posso allargarmi di... Vai allargati allargati se vuoi allargati ma non 10 Allora per quanto riguarda libri ok io ho due libri che hanno determinato il mio cambiamento di pensiero e il fatto che prima avessi fatto tante realtà piccoline che raggiungevano 4-5 persone e lì si fermavano e poi dopo un po' mi stufavo mi stufavo nel senso che entravo in un sistema rutinario e non crescevo ok e mi hanno determinato invece di creare qualcosa che possa crescere molto di più sono uno focus di All Rise ok quindi la focalizzazione dove viene spiegato non è un bel libro in realtà perché è ripetitivo eccetera eccetera però ti fa capire il concetto di focalizzazione numero uno due è un libro che si chiama Prendi soldi e scappa ok è un libro un po' particolare dove praticamente viene come viene raccontato questo percorso che fa che è simile al percorso che ho fatto io che ho replicato semplicemente che fa un'azienda di un'azienda di marketing ok dove faceva di tutto ma aveva i problemi che io avevo e poi a un certo punto decide di focalizzarsi sviluppando un proprio metodo operativo per lo sviluppo di loghi ok e da lì poi quindi è diventato tutto più scalabile più 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 e ne spiega un po' il percorso quindi questi sono quelli che hanno determinato assolutamente un cambio di paradigma nella mia testa ne aggiungerei un altro che sono due ma è lo stesso sono la successione che sono Rockefeller Habits che adesso in italiano quello successivo c'è anche in italiano si chiama Scaling Up ok dove spiega molto bene ed è strutturato secondo me benissimo e dove spiega proprio tutta la parte relativa alle persone la parte finanziaria la strategia eccetera come impostare come impostare dei valori aziendali come farli rispettare tutta una serie di cose questi sono i libri che hanno davvero determinato poi a me piace leggere tantissimo leggo un libro la settimana quindi di questi ce ne sarebbero tantissimi che potrei suggerire però quelli che hanno davvero cambiato il mio ritmo sono questi tool noi abbiamo oggi non potremmo essere quelli che non siamo senza Slack ok Slack usato in un modo intelligente non deve sostituire Whatsapp o cose di questo tipo ok però Slack a noi è permesso di fare due cose in primis uno ridurre forse del 90% forse qualcosa di più l'utilizzo della posta elettronica nostra interna ok la posta elettronica non è fatta per lavorare in team è asimmetrica genera un sacco di problemi nessuno è mai in coppia in modo e nessuno legge tutte le mail un canale Slack invece strutturato in modo noi ne abbiamo uno per cliente più tutta una serie di canali nostri interni ci permette di far cosa di mantenere all'interno di un unico ambiente tutte le comunicazioni riguardo a quel cliente fatte da tutti in modo da avere uno storico fatto anche per chi entra sul progetto in un momento successivo dove può dedicando un giorno a leggere tutto ripercorrere tutto con tutti i documenti con tutte le cose eccetera quindi l'altro diciamo elemento determinante oltre alla riduzione della posta elettronica è il fatto appunto di avere un'organizzazione legata ai progetti ai clienti e alle nostre attività molto più più specifica ok a Slack poi abbiamo agganciato ad esempio una wiki dove che puoi interrogare da Slack dove abbiamo portato tutto il nostro knowledge base quindi tutte le nostre le nostre procedure le nostre processi interni eccetera in modo che siano completamente integrati però diciamo Slack è quello dell'elemento determinante è software che suggerirei a tutto perfetto scusami aggiungo l'ultima cosina che l'altra cosa che Slack elimina ok ma non dovrebbe nemmeno esistere è il fatto che in precedenza noi lo usiamo già da 3 o 4 anni quindi già tanto tempo in precedenza ricevevo comunicazioni su Messenger su Whatsapp su email frammentazione davvero dove mi aveva scritto quella cosa che non ha senso ok oggi è tutto in un unico posto in modo tutto ordinato questo migliora tantissimo davvero lavoro in azienda Paolo ti ringrazio sei stato veramente super gentilissimo grazie mille del tempo e della chiacchierata ci sono stati un sacco di insight super interessanti grazie a te ciao